Sì, non c'è! Sono un tesi, sono un tesi! Sì, stupendo il villaro? Si? S-a quattro? Ok! La cat? La... La 8? Nu știu, nu mai fac una, dar la 8. Trebuie să fie aici? La doua! Nu! Că nu este! Pîna la 8? Su? Da Sì, io sono chiuso a pensare che non si che si non si non si non si non si siano come Da, chiar Se si non si non si lo vedo Si io Ma è sicur che non si non sia io? Perché No, ceasurile mele Ceasurile mele sono tutte buone Bene No, ne sono bene Ne sono bene E' questa cosa? Bene, grazie! Non so, dove ho trovato qualcosa di manacere? Non so, dove ho trovato qualcosa di manacere a Pasca? Non so, cosa ti dico? Cosa di manacere, ho fai freddo. Pascagni. Pascagni? Vrei manacere qualcosa. Non so, non so, cosa ti dico? nine, evidente regreso, dico. in france. Paris, therei Pachkani? Sei non so, cosa che mi viene Voglio un po' di Pascano che mi fa, mi fa 10 lei Lei? C'è quello lei? Non capisco Parle in francese E se parlo in francese, non parlo in francese Pascani non francese, Pascani Pascani Non credo, credo che sei in nostro mondo Qui è la Francia E in Francia E in Romania E in Romania E in Romania C'è vicino, 2300 km E in francese 2300 km Ce vrei, ma? Hai, da-te dinici cu astea Nenea, cat e ceas? Care e ceas? Ceas, bani E doua E doua? Nu Ală, baiată, baiată, fete, îmi dorei că am măi cea pentru tine un parfumel, o treabă, un papuc, un papuc, un papuc pentru tine, ca un nuntă la o petrecere, hai pentru tine, doar 250 lei! Dau 10 lei cu tine, dau 10 lei Cîn ne cunoastem prima a dată! Si tu da'le? Nu uite o perechă de ochelari sau fange Convene, din prima, e frate E' perfecta, frate, e prate E ok, e ok Dar te da bani, 50 lei E ai, 50 lei Sau uite un drudulea, pentru doamna aia. Că sigur nu te discuți cu trebuie și matic, baii tu, și tu alea, că faci tu o treabă E bine frate, îi strămânzi că ai să ai nevoie dimine. Frate, frate, dar faci tu un re, dacă ăla e proast, că nu stii care e treaba cu ea? E si è pe nodi. Ho detto che amato un parfumero ventruttini e scoperecii di occhiere in prima. Diciamo come è finimento. Ma qui l'ai fatto? Un guido per farlo un grande lavoro uccolo. Sì hai... Aà e io cianu che non vprei. Allo, allo baiatrò, fai atenté che amato i occhiere di occhiere ventruttini, dore 50 lei. Ho, in casa è grande, minorità, hai dà'mi un scopo... Sì parle poi. Sì che parle, non sono francese, io ho dovuto vedere i miei cose che sono... Non… Vai veni in casa! Amoste amon di loro pentru a cine! Vai veni in casa! Hai sa a Cellulia! Vai veni in casa con la mia vita! Batti ti 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 pe aia! Bé da Ea afara si ma faci qui Ea afara si ma faci qui Ea sei a zero grade azi Plecam odata? Pada, ci cred tre nu pleacă in cinci metri acum, nu stiu Da? Sì sono se vedo se va mai vede? Da stai un telefono Sì sono Sì, sono Super fric Ia Sì 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 Voi dacă rispondi Sì? Sì sono stranito Sì Allo man, ci faci? Parlò che avevo l'oprice di acasà Man, quindi tu stii că tu stii ca 3 minuti trei sa pleci acum in 5 minuti? man, fii atent noi ti luam con noi macara alti tre' sa faci tu ti mi colo? ce dracu? bine man, fii atent daca nu plecam per tine ok? bine, hai, pa pa va venire, no? zici ca a fost zis ca ajuns in fii si poate da dupa cum o stii eu pe el in fine, hai da, e, ne mai trebuie din nou in centare de acum buna baieti uite si pe asta, acum sa vine plauarea asta bai am scos, mi-am coperat si o masina de spalat am citit al mie si mate man, deci ai noroc fii atent zici ca asta s-a stricat acum da zici ca 5 minuti e gata adica au trecut doua ori de cand am vorbit noi bai da frate nu ti-a spus eu ca vin cu 5 minuti inainte ea cand ne face la semna ei, sa-l impingem bai frate nu poti sa cred ieri am pierdut trenul deci nu, nu exista asa ceva nu exista din cauza ta l-am pierdut de ce nu te misti mai repede deci nu poti sa cred iarasi l-am pierdut tu nu zici nimica ajuta-ma, te rog frumos cu astea pupa astea No, 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 no. . 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